Il bambino, gli angeli e quel figlio in cui è l'esempio, che si chiama mistero, per dire che è un avvenimento santo. E per capire quello che è venuto nella notte, bisognerà usare le parole sante, avvicinarsi con i dettagliamenti santi, come ti posso spiegare. Bisogna intrarci dentro, come ho detto prima, bravo, bisogna intrarci dentro, per capire come il pugno della grotta, simbolo della morte, c'entra con la risurrezione. Se no, quando vai a essere ammesso a domenica, stare a vento all'ultimo dell'avvento, si accorso che c'è il profeta, istituto, che quando lui annuncia la nascita del bambino, dice che il popolo che camminava nelle tene, vive una grande luce. Adesso state attenti tutti e due, dopo l'acrocio, dove viene messo Gesù? Nel suo, risposta il risetto. E mentre le sembrano viene detto una cosa ovvia, anche le cose saranno seguiti di poter aspettare al marito. Uh, che sorpresa! Puede prendere una grotta?